Tiki Taka B2B 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 media marketing, non è così, i social sono una grande opportunità che implica investimento di tempo e di danaro, come sempre questo è un altro grande tema, cioè la visibilità si acquista, se tu hai 100 follower e pubblichi una notizia, il 10, 20, 30% a seconda della piattaforma la vedrà, quindi il tema è tutto si paga, tranne l'aria che si respira tutto si paga, il quantum, il come, il perché, il che cosa mi deve tornare è faccenda di prossime 100 puntate, ma quello che mi sento di dire è faccenda seria, è imprescindibile, bisogna pianificarla, quindi qual è il tuo piano dei contenuti, che cosa farai con i social, quali social, altro grande tema, le aziende fanno la collezione di icone, twitter, linkedin, google plus che non c'è più, tutte ne hanno, il problema è che meglio averne uno solo con cui fai un lavoro egregio, piuttosto che tre con cui fai un lavoro del tutto insufficiente, giusto? Assolutamente, moltissimi argomenti, moltissimi temi, cerchiamo di dare qualche altro spunto, punto, intanto io direi, caro imprenditore, se tu vuoi lasciare terreno alla concorrenza, non utilizzare i social network, quindi primo tema, secondo tema, hai capito per fortuna che è importante essere presenti sui social, benissimo, ricordati che se parliamo, come hai detto tu Andrea, di utilizzo dei social professionali, la professionalità e quindi non stiamo dicendo il profilo personale che uno ha per giocare, ma utilizzo professionale determinano professionalità e conoscenza dello strumento, come hai detto tu, tempo non è un gioco, bisogna dedicarci tempo ogni giorno, la presenza sui social determina la produzione di contenuti, la presenza quotidiana, quindi secondo tema da smarcare, tempo, terzo tema, come hai detto tu, budget, oggi i social non sono gratuiti, anche se Facebook quando entri ti dice è gratis e lo sarà per sempre, sì certo, l'iscrizione, l'iscrizione, poi se vuoi la visibilità, se vuoi generare i lead, bisogna dare dei denari a questi social network, altro tema che hai affrontato tu, meglio essere presenti su uno e in un modo importante, fatto bene, che su tanti è male, altro suggerimento che mi sento di dare, perché l'hai citato tu, quale social utilizzare, cioè come faccio io imprenditore a dire ma utilizzo Instagram, Facebook, beh ci sono tante variabili da matchare, una sicuramente è guardare un po' qual è il trend del momento perché potrebbe darti un aiuto, ma secondo me ancora più importante è la mia audience, il mio mercato, quale social presidia principalmente? Ok, LinkedIn per citare un esempio, benissimo, allora lavora su LinkedIn, qual è la tipologia di contenuto che la mia audience predilige? Perché se sono un fotografo magari l'immagine è il tipo di contenuto più adatto, quindi magari mi sposto su Instagram, ci sono tutta una serie di variabili da considerare, però il messaggio che mi sento di dare, come hai detto tu, signori stiamo parlando dell'uso professionale, non è quindi un gioco, però è una grandissima opportunità che se non vuoi cogliere ha tuo rischio e pericolo. Assolutamente, in realtà ci sono grandi opportunità perché voglio dire oggi Facebook ti dà la possibilità di avere visibilità, di intercettare il target, copre praticamente il 100% dell'audience, si tratta di capire se il tuo target viene intercettato da quello strumento oppure no. Dico Facebook ma non è uno spot a Facebook, ci mancherebbe altro, è molto utilizzato Facebook anche nelle campagne per ottenere delle opportunità, dei lead e quant'altro. L'altro tema che abbiamo citato è che tipologia di contenuti andiamo a produrre, questo è un altro grande tema che va pianificato a tavolino, quindi a tavolino stabiliremo la tipologia dei contenuti, la frequenza di pubblicazione dei contenuti, gli attori aziendali che vanno a produrre il contenuto, cioè è un megafono il social network, un amplificatore alla base di tutto ci vuole la comunicazione, il contenuto da comunicare, un piano strategico di comunicazione perché tu puoi avere un amplificatore ma se non c'è il contenuto dietro rischiamo di fare un lavoro assolutamente relativo. Ecco, è un tema imprescindibile e di nuovo discorso già fatto in altre video pillole, è alla portata direi soprattutto della piccola media impresa perché è lì che ti puoi agganciare, differenziare. Nel web uno non sa chi è grande e chi è piccolo se non è un brand riconosciuto, quindi tu puoi essere un microcosmo di azienda che comunica in maniera importante il suo posizionamento, in maniera ridondante sui network utilizzati e ha un'immagine estremamente più amplificata di quello che magari nella realtà è. Assolutamente, condivido al 100% quello che tu hai detto, hai toccato dei temi importanti cioè social network perché non dobbiamo far passare un messaggio che sia qualche cosa di impossibile, è giusto secondo me responsabilizzare l'imprenditore, fargli capire che non è un gioco e quindi non essendo un gioco bisogna fare le cose seriamente ma è alla portata di tutti. Ma poi io quello che spesso dico agli imprenditori è, caro imprenditore, se non sfrutti tu i social network stai tranquillo che ci sarà un concorrente, cioè se l'audience non la vai a catturare tu, stai tranquillo che ci sarà il tuo concorrente, quindi oggi non puoi prescindere dai social network, questo è un concetto che secondo me non dovremmo nemmeno dire ma in realtà non è così. L'altro aspetto importante da citare secondo me, visto che noi operiamo in un contesto principalmente di tipo B2B è quello di lanciare questo messaggio che anche chi opera in un contesto di tipo B2B può sfruttare i social network, anche Facebook può essere adatto per un contesto di tipo B2B. Noi poi come diciamo sempre bisogna testare, quindi se oggi uno ci chiede ma Facebook va bene per me, bisogna testare, bisogna verificare, ci sono gli strumenti che ti possono dare dei suggerimenti, ma secondo me è errato pensare a monte, così a prescindere che magari un social non vada bene rispetto ad un altro. Chiaro che ci sono dei parametri, però ecco testare, verificare. Comunque il messaggio secondo me per concludere che dobbiamo dare a chi ci sta vedendo o ascoltando è che social network imprescindibili, grande opportunità, tempo, denaro, budget, ma è qualcosa che oggi l'azienda deve assolutamente sfruttare. Assolutamente sì, concludo dicendo non bisogna aver paura perché questi strumenti sono misurabilissimi, cioè tu non butti via il denaro non sapendo l'effetto che crea, quindi salutiamo i nostri amici imprenditori dicendo non solo va fatto ma lo possiamo fare veramente un passettino alla volta misurando i ritorni avendo chiari i KPI che vogliamo monitorare. Quindi mi raccomando comunica, comunica con i social e cerca di partire dalle regole che abbiamo esplicitato. Diciamo che è tutto, ci possiamo vedere tranquillamente settimana prossima, grazie per averti seguiti. Ci vediamo la prossima settimana, lascia un feedback, speriamo come sempre di averti dato qualche spunto utile, tra sette giorni altra puntata di Tiki Taka B2B. Ciao! Ciao!